Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già E di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video Ieri c'è stata la live stream sui primi cambiamenti per la patch 6.0 che porterà in Hunt Showdown Patch molto attese in quanto in teoria aggiungerà parecchie novità al mondo di gioco Soprattutto è l'attesa del nuovo boss che sta facendo un po' tornare le hype verso questo titolo Comunque vi spengo subito perché in questa live non se ne è parlato Critic ha già annunciato che sarà nella live successiva che verrà svelato qualcosa sul nuovo boss Detto questo le novità in questa prima patch sono comunque tante Che sarà sempre caricata prima sul test server è molto sostanziosa come già detto E quindi andiamo subito a vedere tutti i cambiamenti che ci saranno Premetto che questi sono dati presi dalla live quindi la mia traduzione non è perfetta E potrei o sbagliarmi o aver dimenticato qualcosa Non fate meno una colpa Anzi scrivete qua sotto al video se ho sbagliato qualcosa e mettete la versione corretta Così che tutti possiamo leggerla Ovviamente vi ringrazio già ora se capiterà La prima novità ma è praticamente lo standard della patch Crytek è che ci sono le nuove varianti estetiche degli Hunter Nulla di particolare tutto già visto Il secondo cambiamento è stato fatto sull'uso degli oggetti come le cure Che ora dovrà essere premuto il pulsante F o meglio tenendo premuto il pulsante F Per poterle utilizzare e non sarà più immediato Ma passiamo alle cose un po' più succulente Nuovi tratti Vultur e Ghoul Sono due tratti completamente ispirati per raccattare più roba da terra Vultur è un tratto per chi gioca in solo Mentre Ghoul è creato per raccattare più roba dai cadaveri dei nostri nemici Adrenaline nuovo tratto Il tratto coniglio che fa in modo di uscire da situazioni pericolose dovute alla mancanza dell'edrenalina per l'appunto E' stato inoltre cambiato il tratto pitcher Sono stati cambiati gli effetti del veleno Che sono ora molto più facili da minimizzare E non creano quel caos che creavano prima Direi un buon cambiamento soprattutto quando si incontrano le Hive Vedremo comunque nel PTR se questo funzionerà Ora aggiunta delle armi Ce ne sono tre Ce ne sono tre nuove Scusate Due trappole e un cambiamento delle flash Iniziamo dalle armi Nuovo revolver Il lemat Ok si chiama così o lemat Non so se è francese o meno Beh comunque revolver stile uppercut Con una particolarità Oltre ai colpi classici delle pistole Revolverà un colpo da fucile a pompa Particolare Molto bello da vedere Da provare sicuramente Nuovo e bellissimo bolt action Veramente fantastico per mio conto Il label Guardate il video e capirete il perché Ovviamente guardate il video Della live Perché qua ovviamente io ho preso Uno spezzone della live Perché non potevo fare 40 minuti di video Quindi vi lascio il link in descrizione Comunque andatela a vedere È abbastanza facile da trovare Ma so che tu ti state aspettando La lancia bomba Ora È insane Totalmente insane È un'arma assurdamente forte Almeno per quel che si è visto La da lancia Quindi usata come lancia Shotta pressoché tutto Un midhead Lo si tira giù con due colpi Inoltre può lanciare un dardo esplosivo Che non solo instakilla Qualsiasi mob Ma può essere usata per distrarre O danneggiare gli altri player La fortuna vuole Che non uccidi i player con un colpo E che la rende meno sgrava Di quello che è Ma comunque staremo a vedere Le tripmine Che dire Due nuove bellissime introduzioni nel gioco Due mine La prima di avvertimento Che si installa facilmente sotto porte O finestre E passandoci sopra Fa sparare un razzo di segnalazione La seconda che invece Esplode creando una piccola concertina Bellissima di dire poco Questa me la porterò dietro Sempre Sono state cambiate Inoltre le flashbomb Che attualmente fanno poco o nulla In pratica Creano un minimo Cambiamento di luce In chi la riceve Ma per il resto Non servono a niente E Ci sono stati anche dei cambiamenti Per gli shotgun Che però sinceramente Sia per le flashbomb Che per gli shotgun Vorrei aspettare Almeno la patch note Prima di parlarne Un po' più decentemente Continuiamo Comunque In questa live Hanno inserito Parecchie cose Parlando della mappa Lo son delta In cui sono state aggiunte Nuovi oggetti grafici E livelli di mappa Andando a completare Tutto La mappa Nel proprio stile Ovviamente Ricordiamo che Crytek Ci ha sempre portato novità Cambiando Inserendo Nuovi elementi Sulla mappa Magari andando Proprio ad aggiornare La grafica E i livelli della mappa Per evitare I camper Quindi è una cosa Già vista E sono già sicuro Che funzionerà Gli ultimi tre cambiamenti Senza Derivanti Comunque Gli ultimi tre cambiamenti In realtà derivanti Dalla mappa Sono alcuni utilizzi Il primo utilizzo È l'utilizzo Della lanterna Che ora per essere Lanciata come esplosivo Quindi lanterna Lanciata proprio Per fare fuoco Deve essere accesa Quindi noi possiamo Prendere la lanterna Lanciarla Senza che La accendiamo In precedenza E la lanterna Rimbalza per terra Rimanendo intatta Se la accendiamo Invece fa il classico Effetto I corvi Che ora hanno Un pattern diverso Di attivazione Potremmo andargli Un pochino più vicini Soprattutto se andiamo Accucciati Così che Possiamo magari Girarci attorno E non dobbiamo fare Giri assurdi Per evitare che Si attivino Cosa Al quanto gradita Questa come Cambiamento E ultimo Ma sinceramente Per me Un cambiamento Di poco conto È l'uso Degli ascensori Niente di particolare Hanno cambiato Leggermente L'uso degli ascensori In discesa Neanche in salita Ultimo Upgrade Invece È stato inserito Il libro dei mostri Quindi Vabbè È un upgrade Come un altro Sempre facendo parte Della loro Credo di aver dato tutto E con questo Chiudo Grazie a tutti Per avermi seguito GG A tutti quanti Per avermi seguito Per avermi seguito